Sì. Senta me lo dice un suo pregio? Un mio pregio è la pazienza, tantissimo. E un difetto? Un difetto? Sono troppo vera, a volte dovrei dire perché oggi è più. Non mi aspettavo che anche lei si facesse un complimento, mi dica un difetto vero. Difetto vero? Perché qua sono tutte vere e sensibili. Un difetto vero, se proprio parla di difetto, sono troppo maniacale. Ad un certo punto lei non era ancora ufficialmente un'attrice porno, ha sentito un'attrazione per la politica, pure per la politica. L'ho sentita io l'attrazione, mi ci hanno messa, però va bene. Ah sì, intanto diciamo che lei a un certo punto è diventata delegata all'Assemblea Nazionale del PD. Ho capito, ma ripeto, è stato un ruolo che mi è stato dato e il mio socio disse, vabbè c'è la mia socia che è una bravissima ragazza, tranquilla, diamo il suo nome. E quindi la mia tranquillità mi ha portata, ma io sinceramente non mi sono mai occupata di politica, ho semplicemente solo organizzato le sue campagne elettorali e basta. A parte che non mi sarei mai aspettata da lei una quota rosa, che lei fosse una quota rosa. Però c'è un motivo per cui poi lei è diventata delegata? No, 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 è partito tutto così. No, ma perché infatti io prima non ho mai assunto ruoli e non mi sono mai interfacciata. Ringrazio la fiducia riposta, però poi desideravo fare altro e l'ho fatto, nonostante la delega. A Sifredi lei aveva omesso questo suo aspetto e quando lui ha scoperto, diciamo, questo suo scheletro nell'armadio della politica, che le ha detto scelga un meo Renzi? No, non mi ha chiesto scelga un meo Renzi, però mi ha detto se lo sapevo non ti chiamavo, perché è successo un casino. Perché effettivamente la pressione mediatica è stata tanto, non tanto per essere attrice porno, ma semplicemente per essere passata dal PD al porno, che in realtà non sono passata, perché per un anno comunque ho ottenuto la delega e ho fatto l'ultima assemblea delegata nazionale del PD da Malena. In carica, diciamo, da porno diva in carica. La guardavano meglio o la guardavano peggio? No, allora, era molto, la cosa era molto, diciamo, ridicola, però nessuno si avvicinava a chiedere, ma sei tu? Niente, però appena poi andavo in bagno al bar, posso dire di aver fatto più selfie di Renzi, questo è sicuro. Senta, ma quando poi, diciamo, i suoi referenti politici hanno scoperto pure loro che lei faceva l'attrice porno, che cosa le hanno detto? Mi hanno chiesto di consegnare le dimissioni, però io ho chiesto che appunto, essendo un partito democratico, aspettavo una lettera ufficiale, che non è mai arrivata, e quindi ho conservato la mia carica fino alla scadenza naturale. Lei ci è rimasta male quando Renzi è venuto a Bari e non l'hanno fatta avvicinare, lei si voleva fare una foto con lui? Sì, mi è stato impedito di, lo dico sempre, da parte di Renzi e dalle sue, diciamo, guardie del corpo, non c'è mai stato nulla di tutto questo. È sempre stato alcuni membri del partito a livello locale che mi hanno letteralmente impedito di avvicinarmi per fare un selfie, eppure un selfie è concesso a tutti, però. È strano, non le hanno fatto fare una foto opportune. Se la politica italiana si basa su un selfie, ta, non so. Ecco perché... Vabbè, però era lei che gliel'aveva chiesto, eh? Era lei che gliel'aveva chiesto. E appunto, si può negare, un politico non penso che può negare un selfie a un cittadino italiano, indipendentemente dal lavoro che fa, ma sono un cittadino italiano e voto come tutti gli altri. A Ronaldo.